buongiorno a tutti sono cristian esposito technical sales specialist di autodesk benvenuti alla sessione di feature cam intitolata make part faster per chi di voi aveva già seguito la nk university qualche settimana fa avevamo già cominciato ad accennare alle nostre soluzioni software per il sottrattivo tra cui feature cam oggi l'intenzione è quella di andare un pochino ad approfondire il discorso appunto su su feature cam feature cam è il prodotto che noi proponiamo per risolvere fondamentalmente la problematica che hanno molti terzisti e non di realizzare le parti il più velocemente possibile dal punto di vista soprattutto della programmazione quindi è uno strumento estremamente adatto a sostituire altri software ma anche assolutamente come prima implementazione quindi quando lo scenario tipico è quello dell'officina meccanica in cui si programma ancora a bordo macchina è uno strumento che per semplicità ed ergonomia per come è stata progettata l'interfaccia grafica risulta essere molto semplice molto nelle corde degli operatori degli operatori macchina di base che cos'è feature cam è un cam sottrattivo molto automatizzato infatti oggi faremo un ragionamento proprio sul flusso di lavoro dal design o dall'importazione del pezzo 3d fino ad arrivare al codice nc è un cam basato su feature dove per feature si intendono le lavorazioni meccaniche quindi una tasca che può essere composta poi da sotto operazioni come per esempio la sgrossatura lo scarico dei raggi la semifinitura la finitura e lo smusso una tasca è una feature che poi è composta appunto come dicevo da molteplici operazioni associative fra di loro questo è un po' il cuore di feature cam del suo workflow se ragioniamo di flusso di lavoro di quello che si può trovare quando si lavora con un con un cam ci sono fondamentalmente tre condizioni la prima condizione è quella di un flusso di lavoro di un cam tradizionale che ha bisogno di tutte le importazioni di tutte tipicamente le operazioni sono disegno o importo la parte creo il setup quindi l'orientamento degli assi seleziono il tipo di operazione selezioni limiti della lavorazione seleziono il tipo di percorso quindi se sgrossatura semifinitura finitura dopodiché devo selezionare l'utensile con i giusti diametri impostare i parametri di taglio quindi giri avanzamenti passi assiali passi radiali necessari poi finalmente posso simulare e ottenere il codice nc in un flusso di lavoro in un cam tradizionale tutte queste operazioni che nell'immagine sto riquadrando di arancione sono da ripetere per ogni singola operazione che deve realizzare chi programma il cam questo porta ovviamente a un dispendio di tempo notevole anche perché vado a replicare tante volte le stesse operazioni ma per oggetti diversi l'altra casistica in cui ci si può trovare è quello di usare non un cam tradizionale ma un cam basato sul processo che poi fondamentalmente un template quindi si tratta di avere un cam dove tutte le operazioni che prima abbiamo visto essere le ripetitive quelle riquadrate per intenderci nel nel quadro arancione della slide precedente si possono salvare all'interno di una tavola di processi quindi io ne posso salvare diverse tipologie in base più o meno alla famiglia dei pezzi alla dimensione alla tipologia di macchina che devo lavorare e questo serve per velocizzare e diminuire il numero di volte che devo schiacciare i bottoni fondamentalmente anche questo approccio però ha un limite perché perché il template quindi il processo o i processi salvati sono statici quindi l'operatore tanto per cominciare deve averli previsti quindi non esiste un cam che di base propone già dei template perché il concetto del template è la personalizzazione quindi ogni operatore se lo deve personalizzare dopodiché se per esempio mi sono fatto il mio template per lavorare velocemente la mia tasca rettangolare è comunque necessario una volta lanciate tutte le operazioni in automatico che l'operatore vada a controllare e a verificare per esempio se il processo ha eseguito tutte le operazioni corrette se ha usato le dimensioni degli utensili corretti oppure se ha usato utensili troppo grandi o troppo corti quindi ma perché magari la tasca è particolarmente alta se il processo usa giri avanzamenti corretti perché nel momento in cui l'operatore si accorge che magari aveva fatto il template per una tasca più bassa adesso l'ho applicato una tasca più alta ha dovuto sostituire l'utensile mettendone uno più lungo ma mettendone uno più lungo deve ricordarsi di andare a cambiare di nuovo giri avanzamenti passi assiali e passi radiali ecco che quindi anche la modalità di cam basata su processo sui template come vedete ha parecchi limiti feature cam in che cosa si distingue proprio in questo che non è semplicemente un cam basato su template su processo ma in autonomia quindi senza nessun tipo di personalizzazione a priori è in grado di determinare tutte le operazioni di sgrossatura semi finitura finitura tutte le dimensioni degli utensili che va a pescare dal magazzino utensili selezionate calcoli in automatico giri avanzamenti determina passi laterali incrementi in z genera il percorso nc e crea il codice nc tutto tutte queste operazioni vengono fatte in automatico ecco perché su tipicamente pezzi prismatici feature cam riesce a essere veramente molto molto efficace ed ecco perché il titolo di questa sessione make part faster ma passiamo a un a tre piccoli esempi che racchiudono un pochino un un esempio di fresatura a tre assi un esempio di fresatura cinque assi posizionato è un esempio su un pezzo da tornio fresa così più o meno raccogliamo diciamo tutte le possibilità o tutte le casistiche che maggiormente si trovano il primo esempio come dicevo è un esempio tre assi normalissimo quindi carico semplicemente trascinando il mio oggetto tridimensionale in area grafica scelgo la tipologia di macchina quindi cominciamo con un centro di lavoro ipotizziamo verticale come vedete parte immediatamente una procedura guidata che comincia a fare delle domande all'operatore che lo sta utilizzando questo perché feature cam vuole essere estremamente efficiente ed efficace anche per operatori occasionali quindi abbiamo pensato che avere una procedura guidata che vi proponga delle domande e vi accompagni dall'importazione al codice nc possa essere sicuramente di aiuto risulta per chi è abituato a lavorare a bordo macchina molto simile alla tipologia del conversazionale a bordo macchina molto evoluti che si possono trovare oggi sulle macchine di nuove generazioni ok quindi seguiamo la nostra procedura guidata facciamo prossimo selezioniamo la prima cosa che mi chiede di selezionare per esempio una superficie orizzontale per trovare velocemente l'asse z quindi posso selezionare qualunque piano e la z verrà messa ortogonale appunto a questa faccia il passo successivo è selezionare due punti per allineare l'asse x magari l'operatore vuole allineare rispetto al centro di questi due fori ho attivato lo snap dei cilindri quindi gli posso dire per esempio seleziona due punti per definire l'asse x e gli do il primo punto sul centro di questo foro il secondo punto sul centro di quest'altro foro e automaticamente se mi metto in vista in pianta vedete che in basso a sinistra ho le coordinate di orientamento ho posizionato il piano x y con l'orientamento della z in maniera corretta con due semplici clic vado avanti mi chiede la definizione del grezzo quindi se deve essere un parallelepipedo un cilindro un poligono potrebbe anche essere un sagomato lo vediamo nell'esempio successivo in cui partiamo da un pre lavorato anzi in quel caso da uno stampato 3d se ipotizziamo di partire da un parallelepipedo posso inserire le quote perché magari già le conosco e poi cliccare il tasto centro oppure calcolo la dimensione della parte gli do quanto materiale voglio su ogni singolo lato in questo caso sto facendo due millimetri in x y e 20 millimetri ipotizzando una presa in morsa sottostante di grezzo per per poterlo appunto fissare sulla nostra morsa avanti dopodiché vado a posizionare lo zero quindi dove fisicamente l'operatore sarà comodo ad avere lo zero quindi l'origine in macchina ipotizziamo al centro sul punto più alto gli dico se la macchina 3 a 4 o a 5 assi come vedete sono tutte supportate in questo caso facciamo lavorazione solo tre assi quando gli dico fine mi propone il riconoscimento per esempio in questo caso automatico delle feature vuol dire che se io gli dico avanti rispetto all'orientamento dato e al grezzo dato estrapola automaticamente tutte le curve tutte le feature in realtà perché sono tridimensionali quindi tutte le lavorazioni dall'oggetto importato se tutte le operazioni io posso già vedere come vedete se clicco sul foro 0 1 me lo evidenzia in area grafica e via dicendo su tutte le lavorazioni man mano che le selezioni le evidenzio le potrei anche escludere già in questa fase se le accetto tutte gli dico finish nel momento in cui gli dico finito andrò a popolare vedrete che tutte queste lavorazioni tutte queste feature finiranno sotto il setup 1 perché andranno a popolare il mio piano di lavoro ecco qua tutte le mie lavorazioni sulla sulla destra posso andare scusate riduco un attimo l'area grafica perché se non sono coperto dal goto meeting posso aprire sulla destra il tab dei risultati dove come vedete è già stato popolato con tutte le lavorazioni necessarie quindi di sgrossatura di finitura semi finitura scarico raggi forature eccetera eccetera e di ogni utensile che è stato pescato dal magazzino utensile che ho attivo in questo momento che è indicato qui in basso a destra che potrei anche modificare sono già stati assegnati come vedete passi giri e avanzamenti questo vuol dire che io a questo punto sarei già nella condizione di poter simulare quindi la simulazione la posso fare per esempio vedendo il percorso quindi senza avere una simulazione 3d vedo la forma di tutti i percorsi un'altra cosa che vi faccio notare che spesso richiede parecchio tempo da parte degli operatori e che nell'algoritmo di feature cam ci sono già delle regole base qua sulla destra per ordinare automaticamente come in questo caso con delle regole le regole ovviamente sono riduce al minimo per esempio il cambio utensile una delle regole sicuramente più apprezzate per ridurre il tempo di ciclo e quindi vedete che gli utensili non soltanto sono state realizzati tutti i percorsi ma gli utensili sono già ottimizzati per cambio utensili vedete che il t2 quando lo prende fa tutte le operazioni col t2 poi tutte le operazioni col t3 eccetera eccetera nel momento in cui faccio la simulazione 2d verifico il percorso in wireframe diciamo quindi vedo ho visualizzato la forma del percorso se voglio visualizzare la sportazione o la simulazione della sportazione del truccio lo posso scegliere per esempio la simulazione in 3d nella simulazione in 3d vengono anche intercettate gli eventuali errori quindi in questa simulazione la regola che tutto quello che vedo controllo quindi se io visto che vedo il grezzo vedo il gambo e vedo la pinza se ci fossero delle collisioni fra questi elementi verrebbe segnalato vedo il tagliente se ci fossero dei movimenti in rapido nel materiale non ancora lavorato feature cam mi andrebbe ad avvertire faccio la simulazione come dicevo di tutte le fasi in 3d quindi sgrossa riprende finisce fora alla fine di ogni simulazione anche di quella 2d che abbiamo visto precedentemente oltre a vedere il risultato grafico in realtà se mi sposto sulla destra nella parte dei risultati ho il tab dettagli in cui posso vedere velocemente il tempo previsto totale e di ogni singola operazione la lista degli utensili quindi quanti ne sto utilizzando in questo caso sto utilizzando 16 utensili quindi dove avere abbastanza posizioni libere in catena macchina per poter realizzare il pezzo e il codice nc in questo caso ho attivo un'idea in 530 quindi il codice nc di tutto quello che abbiamo simulato comprensivo già di cambi utensili forature sgrossature eccetera eccetera quindi per realizzare questo pezzo che sarebbe anche realizzabile a bordo macchina poco tanto mi sarei dovuto scrivere tutto questo codice a mano ok ovviamente devo poter anche intervenire per fare eventuali modifiche quindi una delle modifiche che capita più spesso di dover fare mi viene in mente guardando questo pezzo che non ha smussi e che magari il pezzo in 3d venga spesso realizzato senza smussi e poi nel cartiglio in basso a destra viene detto dove non smussato dove non quotato il pezzo realizzare uno smusso 05 per 45 gradi per esempio e quindi a carico dell'operatore a bordo macchina in questo caso io potrei entrare in qualunque feature per esempio questa tasca doppio clic vedo tutte le operazioni che feature che mi ha proposto per realizzare questo oggetto ma vedo anche che mi ha ricondotto questa feature a una macro istruzione con una grafica abbastanza eloquente anche semplice da interpretare quindi come vedo in sezione a una profondità di 12 e 7 a un raggio inferiore di 3,175 non ha lo smusso io potrei andare ad aggiungere direttamente da qua lo smusso per esempio di un millimetro dandogli applica vedo graficamente quello che sarà l'ingombro dello smusso attenzione che ho modificato la feature non ho modificato il 3d cosa importante perché il 3d non è detto che sia corretto modificarlo perché deve deve essere modificato magari solo dall'ufficio tecnico ma a livello di realizzazione dell'oggetto l'operatore velocemente ha potuto aggiungere lo smusso cosa ha fatto feature cam non soltanto vi ha fatto vedere graficamente quale sarà il risultato dello smusso ma se notate sulla sinistra dopo l'operazione di finitura mi ha creato un'operazione di smussatura dal magazzino utenze è andato automaticamente a pescare lo smussatore che ritiene più adatto mi ha già impostato giri avanzamenti il refrigerante da utilizzare i parametri di fresatura quindi se io faccio anteprima di questo singolo smusso in realtà lui mi ha già creato come vedete il percorso posizionato correttamente posso anche andare passo passo dello smussatore che mi fa il giro ha già impostato anche l'attacco lo stacco tangenziale la sovrapposizione eccetera eccetera qualunque modifica io faccia come questa dello smusso per esempio se torno nei risultati vedrò il codice nc che si è disabilitato quindi il la modifica è sempre uno a uno per avere il codice nc attivo devo simulare il pezzo nel momento in cui lo simulo abbiamo detto che stiamo facendo anche il controllo collisione di conseguenza sarò sempre sicuro di aver messo in macchina qualcosa che ho obbligatoriamente controllato perché per ottenere il codice nc come vedete adesso ho il codice nc di quello che ho appena simulato con l'aggiunta dello smusso ho dovuto simulare e di conseguenza ho controllato e poi graficamente vado a vedere qual è il risultato per esempio dello smusso ok quindi questo il primo esempio è ovvio che nel momento in cui io ho fatto una modifica su una tasca ma vale la stessa cosa per i fori per esempio un'altra funzionalità molto secondo me intelligente di feature cam è che i fori uguali come vedete li mette in una ripetizione che feature cam definisce pattern quindi vedete che io se vado nel pattern 1 del foro 1 è riuscito a identificare questi tre fori che mi sta evidenziando come uguali e quindi me li ha messi in una ripetizione pattern se io faccio doppio clic vedo esattamente in sezione qual è la tipologia del foro che posso in qualunque momento modificare e se salgo di un livello vedo anche le coordinate rispetto al piano di lavoro e in quale ordine verranno eseguiti scendendo invece di livello vedrò le operazioni necessarie per realizzare questi due fori questi tre fori lamati quindi una foratura con una punta da 8 e 4 e un utensile alla mare in questo caso non aveva il diametro corretto e quindi automaticamente va in fresatura quindi in interpolazione lo vediamo qua entra esce e fa il giro ovviamente la comodità di raggruppare come in questo caso tutti i fori uguali in una ripetizione è molto comoda perché se io dovessi gestire una modifica per esempio questi sono fori da 5,105 normali facciamo finta che li dobbiamo trasformare in m6 passo 1 avendo gestito questa serie di fori come ripetizioni in automatico feature cam a me la modifica viene decisamente rapida da gestire perché che siano 6 o 6 mila i fori io impiego lo stesso tempo quindi vado a scegliere la tipologia di foro gli dico che voglio un maschiato voglio andare a fare una maschiatura iso quindi scelgo lo standard e scelgo la dimensione m6 passo 1 con 0 8 di smusso 15 di filetto 19 di punta applica automaticamente ancora una volta vedete che graficamente feature cam mi fa vedere quale sarà il risultato finale della composizione del foro e sulla sinistra mi ha cambiato il ciclo mentre prima realizzava i fori con una sola punta da 5 1 adesso mi fa tre operazioni mi fa la foratura ovviamente con la punta da 5 la smussatura e la maschiatura e di ognuno mi ha messo il ciclo fisso adatto quindi ciclo di maschiatura per il maschio di smussatura col tempo di sosta per lo smussatore e di foratura profonda con incremento 5 magari della punta così come i giri avanzamenti coerenti eccetera eccetera ovvio che a questo punto facciamo ancora la simulazione di tutto così generiamo il codice nc a questo punto il collo di bottiglia potrebbe diventare la creazione del foglio di lavoro per attrezzare la macchina perché se il tempo di esecuzione dal dall'importazione a alla realizzazione il codice nc è rapido come vi ho mostrato a questo punto dare le informazioni all'operatore di come deve attrezzare la macchina per ottenere questo oggetto potrebbe richiedere paradossalmente molto più tempo di quello che è stato necessario per generare il codice nc ecco perché è importante avere quindi anche uno strumento che in automatico mi vada a creare un foglio di lavoro per l'attrezzaggio macchina salviamo il progetto diciamo su desktop per esempio in modo che poi possiamo andare nei moduli aggiuntivi a creare quello che noi definiamo setup sheet quindi cliccando su setup sheet posso compilarlo con titolo autore nota 1 nota 2 società tutto quello che voglio posso catturare l'immagine posso uscire in tre formati html excel e xml tutti comunque formati standard in modo che siano gestibili anche le eventuali gestionali eccetera eccetera catturare l'immagine e creare il foglio di lavoro quindi quando quando do il clic per la creazione del foglio di lavoro viene compilata in questo caso io ho scelto html quindi mi apre il browser viene compilato il foglio di lavoro con tutte le informazioni necessarie per realizzare questo questo pezzo quindi ancora una volta sarò estremamente veloce a dare le informazioni del come attrezzare la macchina per realizzare questo oggetto soprattutto avendo verificato come controllo collisioni con questo tipo di attrezzatura evito anche di rischiare nel nel trasmettere i dati se fosse se fosse un'operazione manuale oltre a le quote diciamo il fuori il fuori pinza degli utensili e tutte le le cose necessarie per il montaggio quindi per l'attrezzaggio vero e proprio posso uscire anche con delle informazioni in questo caso una tabella di processo dove di ogni operazione per esempio indico che tipo di operazione è qual è il numero di utensile qual è il nome dell'utensile qual è l'avanzamento i giri il tempo previsto di ogni singola operazione e il tempo totale ovviamente poi posso uscire anche con l'immagine del progetto che mi fa capire come deve essere posizionato e come deve essere allineato e azzerato il pezzo passiamo al secondo esempio quindi questo un esempio molto semplice di lavorazione a tre assi di un pezzo dal pieno se dovessimo invece in questo caso parto da da un piccolo assemblaggio già costituito quindi salto alla fase di allineamento iniziale che è uguale a quella di prima in questo caso ho anche un'attrezzatura quindi una morsa devo fare le lavorazioni in questo caso non tutte però perché come vedete posso partire anche da un presagomato infatti se vado nella lista dei solidi eh vedrò per esempio il grezzo che è un eh un pezzo stampato in 3d quindi non tutto non tutte le lavorazioni saranno da fare e in questo caso semplicemente se io ho il pezzo finito che è quello che si chiama mfs 104 part che è questo e il grezzo che è quello che si chiama 3d print è semplicemente andando nella gestione del del grezzo gli dirò che non è né un blocco né un cilindro né un poligono ma che è definito da utente e quindi gli vado a dire qual è eh l'oggetto che rappresenta il mio grezzo di partenza in questo caso il 3d print quindi il setup è molto è molto semplice eh oltretutto come movimentazione e gestione degli assi in questo caso non lo facciamo a tre assi ma lo facciamo a cinque assi quindi eh gli indichiamo che il lavoro sarà da fare a cinque assi con magari utensile dominante per l'ordinamento delle posizioni perché vorremmo fare alcune lavorazioni da z e però poi c'è anche questo foro che vogliamo fare inclinando eh inclinando gli assi eh in questo caso non uso il riconoscimento automatico come nell'esempio precedente perché sarebbe inutile andare a trovare tutte le lavorazioni quando in realtà le uniche che devo realizzare sono eh i fori eh questa eh questa contornatura perché vedete che il grezzo ha uno spessore di circa un millimetro quindi non sarà necessaria neppure la sgrossatura dovrò fare soltanto la contornatura eh del foro centrale grande e di questa tasca eh rettangolare raggiata con tutti i fori in questo caso utilizzo un'altra tecnica che è quello del riconoscimento interattivo quindi entro nel menu passi vado direttamente in feature e gli dico semplicemente che cosa voglio riconoscere in questo caso per esempio voglio riconoscere la tasca centrale estrai con riconoscimento feature perché il tre dice l'ho posso selezionare delle regole in questo caso per esempio voglio usare seleziona superfici laterali io con un clic faccio capire al software qual è la lavorazione che voglio realizzare e lui automaticamente mi crea la feature a questo punto posso per esempio se il foro centrale è passante posso dargli più un millimetro in modo da allungare ed estendere la parte inferiore e poi gli indico la strategia non voglio sgrossare perché qui mi basterebbe andare giù in elicoidale e quindi gli dico per esempio fine e nella strategia gli dico guarda che voglio fare passate licoidali da 5 mm applica se vado a vedere con che utensile me lo propone lui me lo propone con una fresa da 50 nessuno mi vieta ovviamente di cambiare gli utensili che lui mi propone feature cam ragiona sul in base all'attrezzatura che ho a disposizione prendo quello che impiega meno e che ha le caratteristiche adeguate quindi se in questo caso mi ha selezionato una 50 perché la 50 ci sta all'interno di questa tasca e rispetta la raggiatura minima ma nessuno mi vieta a fare una selezione per esempio di tutte le fresa candela da 12 inserisco qua nel filtro di ricerca 12 feature cam mi evidenzia tutte le fresa candela da 12 e poi l'operatore è libero di scegliere quella che vuole per esempio io scelgo questa applica anteprima feature cam automaticamente ha selezionato passi giri avanzamenti e faccio un entrata elicoidale con un ingresso solo e uno stacco solo poi magari voglio riconoscere dopo la tasca voglio riconoscere i fori quindi entro di nuovo in feature stavolta gli dico che voglio riconoscere i fori avanti lungo z avanti avanti se voglio metto dei filtri seleziono tutti quelli che voglio riconoscere tranne quello centrale perché l'ho lavorato di fresa fine ed ecco che ho realizzato i fori se vado nell'explorer infatti mi trovo la mia tasca la mia ripetizione di fori in base ai tipi quindi foro 1 foro 2 e foro 3 l'ultimo foro che voglio fare è inclinato è questo foro laterale quindi in questo caso ancora gli vado a dire ricerca foro estrai dal modello 3d non lungo l'asse z ma lungo determinato vettore o gli indico io il vettore oppure se ne ho più di uno gli dico riconosci tutti i fori che non sono orientati da z ed ecco che lui in un colpo solo volendo me li trova tutti ok poi io seleziono quello che voglio lavorare in questo caso quello che voglio lavorare ha anche una particolarità che in realtà è spezzato come vedete dalla cava già realizzata ma io non voglio realizzare il primo pezzo del foro qua e poi un secondo foro qua lo voglio trattare come se fosse un foro unico quindi posso tornare indietro attivare il flag l'opzione unisci i fori disuniti e se torno avanti automaticamente se lui trova dei fori allineati anche se c'è dallo spazio in mezzo me lo gestisce come un foro unico quel punto seleziono quello che voglio lavorare fine e lui mi ha creato anche il ciclo centrino fora e lama per realizzare questo questo oggetto quando sono pronto posso andare a fare la mia simulazione in 3d e in questo caso avendo anche l'attrezzatura vi ricordate cosa ho detto prima la regola nella simulazione 3d è che tutto quello che vedo nella simulazione 3d è controllato quindi in questo caso vedo anche l'attrezzatura vedete la il pezzo di partenza ipotizzato come uno stampato 3d tutto quello che vede controllato quindi nel momento in cui faccio la mia simulazione in 3d se ci fossero delle collisioni con le attrezzature in questo caso le morse mi verrebbe segnalato in questo caso dato che facciamo una lavorazione a cinque assi quindi ho anche una delle movimentazioni angolari è importante non limitarci a questo tipo di simulazione ma magari fare una simulazione ancora più avanzata quindi dopo la simulazione 3d o la simulazione con la cinematica della macchina questo tipo di simulazione mi permette di controllare anche tutto tutti gli altri componenti quindi eventuali collisioni tra testa e tavola e fine corsa lineari e angolari eccetera eccetera quindi lancio la simulazione e dato che non ho ottenuto nessun tipo di avvertimento di allerta di collisioni di fine corsa lineare lineare o angolare vuol dire che il mio codice nc è pronto per essere messo in macchina in questo caso avrò un codice nc a 5 assi dove a un certo punto ci saranno le rotazioni in questo caso della della rotobascula per andare a eseguire il pezzo che ho visionato poi farò il foglio di lavoro esattamente come abbiamo fatto nel pezzo precedente per allestire e dare tutte le informazioni corrette e coerenti al progetto e a quello che ho simulato tridimensionalmente all'operatore che sarà pronta ad attrezzare la macchina a fare start e a fare andare la macchina non presidiata nella massima sicurezza l'ultimo esempio che volevo farvi vedere era invece di tornio fresatura ovviamente nelle officine meccaniche soprattutto quelle di meccanica generale non ci sono soltanto i centri di lavoro 3 4 e 5 assi ma ci sono anche tanti torni e spesso tanti torni motorizzati quindi ancora una volta un semplice pezzo giusto per capire la filosofia di feature cam trascinando il 3d in area grafica vado a selezionare questa volta tornitura motorizzata in modo che feature cam si posiziona sugli assi come vedete in basso a sinistra x z e non più x y perché siamo su un tornio e non su una fresa ancora una volta parte la procedura guidata di feature cam che ovviamente mi farà delle domande che però saranno molto simili a quelle di prima ma comunque più coerenti al fatto che stiamo lavorando su un tornio o un tornio con dei motorizzati quindi la prima cosa che mi chiede per esempio una superficie di rivoluzione per trovare automaticamente l'asse z di rotazione quindi semplicemente gli do una superficie cilindrica uno smusso una qualunque superficie ottenuta da rivoluzione quindi io clicco e automaticamente trova l'asse z di inserzione dopodiché la direzione dell'asse z la gestisco con il tasto inverti z clicco fino a quando ottengo la posizione desiderata in questo caso abbiamo una lavorazione che è da fare praticamente tutta sul mandrino principale e quindi ragioniamo di una z positiva che guarda verso destra avanti due punti come prima che posso che mi possono servire per allineare l'asse x l'asse x sul tornio corrisponde al c0 quindi se devo mettere un pezzo in fase è fondamentale avere questa 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 opzione se parto da un pezzo pieno ovviamente è indifferente ancora una volta mi chiede che forma e che dimensioni deve avere il grezzo partiamo da un cilindro anche se non è obbligatorio si può partire anche se si può partire a tornire anche da un poligonale o da un grezzo sagomato o da un quadro non è detto vero che l'80 per cento delle volte forse anche di più si parte da un cilindro gli do le dimensioni quindi mi metto in vista frontale do dimensione ancora una volta posso inserire io le quote oppure calcolarle dalla parte importata definisco dove voglio lo 0 tipicamente davanti avanti fine ancora una volta parte la procedura guidata per realizzare e trovare le lavorazioni i fori magari adesso facciamo una condizione mista magari voglio trovare tutto quello che è tornitura lo voglio trovare con il riconoscimento automatico tutto quello che con i motorizzati lo voglio utilizzare voglio utilizzare la tecnica del riconoscimento interattivo così facciamo un misto delle due tecniche viste precedentemente quindi i fori sono da fare con i motorizzati gli dico che non li voglio riconoscere in automatico e poi gli dico che sul solido selezionato lui mi deve trovare tutte le lavorazioni da z barrenatura interna tiro via i fori abbiamo detto che li riconosciamo successivamente detto che come vedete li avrebbe anche già riconosciuti il lato frontale che è una tasca lo riconosciamo successivamente tengo soltanto la spianatura di servizio il profilo di tornitura e il profilo di gola che mi ha estrapolato automaticamente dall'oggetto se gli dico fine nascondiamo magari il grezzo e nascondiamo le feature così vediamo meno righe e vediamo il progetto più pulito vediamo sulla sinistra abbiamo la spianatura in tornitura la tornitura e la gola quindi se andiamo a simulare passo passo avremo l'utensile che arriva e fa la spianatura lo stesso utensile in questo caso che mi fa la tornitura in sgrossatura ovviamente posso cambiare gli utensili in questo caso poi mi prende un 35 gradi per fare la finitura e poi l'utensile da gola che sgrossa e finisce la gola ancora una volta possiamo fare la simulazione in 3d per vedere la simulazione diciamo dell'asportazione del trucciolo anche qua la regola è quella di prima se ci fossero collisioni o errori verrebbe segnalato dal software che si fermerebbe immediatamente sull'operazione che genera errore a questo punto la parte di tornitura l'abbiamo fatta vogliamo aggiungere le operazioni di fresatura e questo lo facciamo in maniera interattiva come abbiamo fatto prima quindi iniziamo riconoscendo magari la tasca interna e quindi vado in feature accendo il motorizzato scelgo tasca riconoscimento automatico da z e poi per fargli capire quale voglio riconoscere in questo caso gli potrei dare la superficie orizzontale quindi tocco il fondo della cava e semplicemente mi chiederà da che z partire e dinamicamente io tocco il punto di partenza il punto di arrivo era già corretto lo smusso clicco punto sopra punto sotto e automaticamente prende la misura in questo caso è 0 5 e poi come voglio lavorarlo lo sgrosso lo finisco fine poi ci mancano i fori frontali e i fori radiali quindi lavorazione accendo il motorizzato riconosco i fori frontali quindi da z seleziona tutto fine e poi replico la stessa cosa per quelli radiali accendo il motorizzato riconosco i fori stavolta gli dico che sono quelli radiali che deve riconoscere seleziono tutto fine come vedete la velocità di feature cam sta nel riconoscere sì le feature ma soprattutto analizzarle esattamente come abbiamo visto nei due esempi precedenti analizzare i raggi minimi analizzare i diametri dei fori le caratteristiche e in base all'attrezzatura che abbiamo a disposizione agli utensili che abbiamo a disposizione andare a pescare nel magazzino utensili gli utensili appunto più adatti facciamo la simulazione di tutto ecco io non voglio partire magari con con le forature e quindi vado a cambiare l'ordinamento perché voglio partire con tutte le operazioni di tornitura perché normalmente è la cosa più corretta da fare gola e poi parte a fare la lavorazione frontale della tasca poi farà tutti i fori frontali e tutti i fori radiali a questo punto diventa importante anche in questo caso fare una simulazione con la cinematica dalla macchina perché esattamente come prima sul nell'esempio 5 assi nell'esempio 5 assi di fresatura importante perché magari ho la rotovascola che ruotando può andare in collisione mentre nel tornio fresa importante perché magari devo prevedere eventuali collisioni che posso avere con l'utensile inattivo quindi io sto lavorando con un bareno o con utensili tornitura vicino c'è montata una punta molto lunga che però non sta lavorando quella fase è importante intercettare anche quel tipo di errori la prima cosa che vediamo ovviamente è che dobbiamo allungare un pochino il materiale per farlo stringere dalle griffe perché altrimenti così non stiamo non stiamo simulando la condizione reale quindi dato che noi quando avevamo creato il grezzo lo avevamo dato giusto potremmo pensare di dargli 20 mm quindi più 20 sulla lunghezza applica e dire e dire di stringere il pezzo non 125 ma 80 mm applica a questo punto andiamo a risimulare con la cinematica della macchina e vediamo immediatamente due cose intanto che abbiamo aggiunto i 20 mm al grezzo e la seconda cosa che le griffe si sono aperte automaticamente alla dimensione del grezzo a questo punto siamo nella condizione di poter andare a simulare tutte le fasi in questo caso abbiamo anche un tornio fresa con il contromandrino quindi i 20 mm che abbiamo aggiunto posteriormente per poter stringere il pezzo in questo caso con questa macchina potremmo pensare di fare un passaggio dal mandrino al contromandrino e di andare a togliere in seconda fase i 20 mm posteriori così tiriamo giù il pezzo finito ok quindi l'ultima operazione del setup 1 potrebbe per esempio essere andiamo a fare una nuova feature di tornitura stavolta manipolazione pezzo e gli dico che voglio potrei trasferire il pezzo potrei fare un trasferimento invertito quindi da contromandrino a mandrino gestire il tirabarra gestire i supporti che possono essere contropunta lunetta contro mandrino potrei gestire una troncatura un espulsione quindi queste sono le operazioni accessorie tra virgolette che si possono fare tipicamente su un torno in questo caso voglio trasferire il pezzo stringendolo 25 dall'altra parte dopodiché avendolo portato sul secondo mandrino posso andare a creare un nuovo setup sul mandrino non sul mandrino principale ma sul sub spindle quindi sul secondario mettendo lo 0 tipicamente dietro poi avevamo i 20 mm quindi diciamo meno 20 per avere lo 0 e a questo punto abbiamo i famosi 20 mm di materiale vedete da togliere che erano quelli che avevamo aggiunto per poter sostenere in prima fase potrei pensare di aggiungere una feature di tornitura che faccia soltanto la spianatura considerando i 20 mm che faccia la sgrossatura la finitura fine anteprima quindi questa operazione che viene fatto sul contromandrino sono pronto a questo punto per fare la simulazione con tutta la cinematica della macchina e con tutte le fasi lanciamola giriamo così vediamo tutto ok e vedo la torretta completamente attrezzata sia con gli utensili per la fase sul mandrino principale sia con l'unico utensile vedete qua sulla destra che deve andare a gestire la fase secondaria sul contromandrino alla fine della prima fase avrò il passaggio da mandrino a contromandrino con la presa del contromandrino appunto eccolo qua e poi è stata molto veloce i 20 mm che abbiamo tolto con l'utensile sul contromandrino e ancora una volta ogni volta che abbiamo simulato avevamo il codice nc in questo caso siamo eravamo su un ctx con un simen sotto e 40 tipicamente da torni motorizzato pronto per essere messo in macchina e realizzare la parte di esempio che abbiamo visto ok questi erano i tre i tre esempi come vedete ci ho tenuto a far vedere non soltanto fresatura ma anche tornitura motorizzata un po completa mandrino contromandrino perché in realtà un'altra caratteristica importante di feature cam è che è una soluzione unica per ogni esigenza cioè quello che si intende è che dato che è un cam molto adatto per chi fa meccanica generale ti tipicamente le officine da meccanica generale sono costituite un po da tutte queste tecnologie quindi dalla fresatura dei due assi e mezzo ai cinque assi dalla tornitura due assi fino alle macchine multitasking torno torno fresa con l'asse b che può lavorare anche in continuo su mandrino e su contromandrino fino ad arrivare a spingersi alle fantine mobili per chi lavora in quella nicchia di quella nicchia di settore diciamo fino all'erosione a filo che non abbiamo citato ma che è completamente gestita dai due quattro assi di feature cam gestione tavole girevole per chi fa produzione tipicamente sulle macchine orizzontali e tutto quello che è il mondo della tastatura quindi il fatto di poter fare del probing in process e quindi sfruttare i tastatori che possono essere gestiti come dei cambi utensili normali per andare a verificare quello che si è appena lavorato se è a misura oppure no quindi assolutamente una soluzione che possiamo definire completa come tutti gli altri nostri prodotti di feature cam esiste la versione demo 30 giorni con cui si può ovviamente si può scaricare si può installare ma si può anche post processare ci sono dei post processor standard funzionanti per le lavorazioni tre assi sul centro di lavoro e di tornitura a due assi per per poterlo valutare fino in fondo per essendo un cam ovviamente importante vedere anche come si comporta quando si va in macchina non soltanto la parte di di programmazione cam se avete necessità di approfondire il discorso di feature cam potete contattarmi direttamente la mia mail e cristian punto esposito chiocciola autodesk.com mi trovate anche su linkedin se volete mi potete anche mandare un messaggio in linkedin vi risponderò sicuramente se avete delle domande su quello che vi ho che vi ho raccontato oggi mandatemi pure una mail entro entro domani sera cercherò di rispondere a tutte le questioni se invece volete addirittura avete visto uno strumento che può fare al caso vostro ma vorreste approfondirlo magari su delle su dei vostri pezzi e sulle vostre macchine contattateci tranquillamente possiamo venire a fare una visita consulenziale presso le vostre le vostre aziende e ragionare un attimino delle macchine delle problematiche che avete insieme con questo vi ringrazio vi ricordo che settimana prossima ci sarà un altro un altro webcast stavolta il topic sarà non non feature cam ma power mill quindi per chi può essere interessato mi raccomando iscrivetevi anche al prossimo lo terrò sempre io grazie a tutti buona giornata grazie a tutti 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 Grazie a tutti